Trismoca Challenge è la gara evento annuale organizzata da Trismoca sul palco della Fiera Golos Italia per selezionare i finalisti che avranno accesso al prestigioso campionato di Sky Italia. Una spettacolare competizione, fino all'anno scorso tra sei studenti e sei baristi professionisti, quest'anno dedicata solo alle scuole, per aggiudicarsi l'accesso alla finale del campionato italiano baristi caffetteria. Ma prima di tutto devo dire che Trismoca è veramente soddisfatta ancora una volta, questa è la quattordicesima edizione, di presentare questo straordinario concorso che ha il fine di educare, formare, dare un'opportunità ai tanti giovani delle nostre due province. La grande novità di quest'anno è che abbiamo dedicato l'intero concorso alle scuole. Siamo alla ricerca dei più grandi e dei migliori futuri baristi. Ci poniamo al mercato proprio come azienda che forma, ma come azienda che vuole anche offrire l'opportunità ai baristi, agli attuari baristi, ai futuri baristi di poter scegliere i migliori giovani in assoluto. Giovani già formati, giovani che possono uscire dalla scuola anche con un curriculum legato al mondo del caffè, della caffetteria e delle competizioni attraverso l'ausilio di Trismoca. Quest'anno i ragazzi hanno veramente fatto del loro meglio. Da settembre a oggi si sono dilettati in questo ciclo formativo all'interno della loro scuola, del loro istituto, con il loro professore, con i loro compagni, ma anche all'interno della nostra azienda, sporcandosi le mani con il caffè. I prodotti che abbiamo messo loro a disposizione sono tradizionalmente le nostre grandi miscele, fra le quali la più importante gourmet 100, un 100% arabica, con retrogusto di cacao e di cioccolato, tutte provenienze nord e centroamericane, e cinque monorigini speciali tostati appositamente proprio per queste competizioni e per dare gratificazione al Palato e ai nostri giudici, ma che sono anche sul mercato. Grande novità che proporremo proprio a Montichiari, all'Aliment, che queste monorigini verranno confezionate in contenitori di alluminio da 450 grammi, perché sono prodotti preziosi, sotto azoto, proprio per poter consentire una vita del prodotto lunga due anni e quindi aver sempre la perfezione del risultato in bocca nei nostri bar. Le selezioni per accedere al Trismoca Challenge 2018 si sono tenute nella sede di Trismoca a Paratico e a valutare gli aspiranti finalisti sono stati i quattro giudici, che hanno valutato differenti aspetti dei caffè e dei cappuccini preparati. I giudici veramente hanno offerto la loro grande professionalità. Ricordo che questi giudici non sono qui per caso, è gente che lavora in Trismoca anche da tantissimo tempo, più di 30 anni, è gente che fa continuamente formazione, perché è indispensabile, e in questa occasione hanno considerato la presentazione dell'espresso, il colore della crema, il profumo del prodotto e il gusto e retrogusto dello stesso. Non si sono limitati solo ad assaggiare, annusare e guardare, ma hanno dovuto ascoltare con grande attenzione la spiegazione di questi giovani artisti del caffè, perché questi ragazzi hanno dovuto fare una ricerca, spiegarle da dove proveniva il prodotto, a che altitudine era stato raccolto, come era stato lavorato, il trasporto e anche il metodo di tostatura. Quindi direi che stiamo creando veramente il futuro dei nostri baristi brisciani e noi siamo orgogliosi di farne parte. Ma per i dodici finalisti non è tutto. Diciamo che quest'anno, come sempre, a spirito di Trismoca, vogliamo spingere ancora di più sull'acceleratore. Ai dodici finalisti non solo abbiamo offerto tutto questo percorso formativo e mi auguro la visibilità e anche un'opportunità lavorativa nei prossimi anni, ma abbiamo voluto dare a loro ancora due momenti interessanti di approfondimento che non centrano nulla col caffè, ma sicuramente saranno utili nella loro vita. Il primo sarà un percorso per migliorare, capire e imparare a parlare bene in pubblico, tenuto da Luca Riva, che sicuramente è un maestro della comunicazione, ne l'abbiamo conosciuto in questi tanti anni nel territorio brisciano e non solo, e l'azienda di comunicazione e timagine racconterà e spiegherà e farà capire a questi ragazzi il perfetto e il buon uso dei social network, anche legati a questa competizione. Al termine delle selezioni, coloro che si contenderanno il titolo del Trismoca Challenge sono Alessia Mari, Adissa Bara, Mattia Bodei, Asia Chiari, Asia Coccaglio, Francesco De Filpo, Matteo Fredi, Ilaria Loddo, Sambale Raczyratov, Martina Rovida, Nicola Rovida e Giovanni Valentini. Solo a Golositalia, che si terrà a Montichiari dal 24 al 27 febbraio, scopriremo chi dei dodici sarà il degno e re del trono di Daniele Ricci, che è stato il vincitore delle ultime tre edizioni.